Bartesaghi espulso e Friendroop ammonito l'incoerenza delle decisioni arbitrali, trovare differenze un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video incredibile quello che sta succedendo davvero incredibile pensate che potrei tranquillamente chiudere il canale e smettere di fare la controinformazione che sto facendo perché addirittura questa volta a denunciare quello che sta succedendo è incredibile ma vero fanpage fanpage.it che noi sappiamo fare servizi solo esclusivamente contro la Juventus con il giornalista per eccellenza che abbiamo imparato a conoscere nel passato e nei nostri video passati oggi si occupa proprio di quello che non riesce a capire la maggior parte delle persone come funziona il sistema arbitrale qual è il regolamento e qual è il protocollo andiamo a leggere l'articolo ragazzi proprio perché è incredibile proprio perché se ne sta occupando fanpage chissà che magari Filippo Roma con le Iene si svegliano pure ci fanno un servizio su quello che sta succedendo sulla Marotta League sulle plus valenze sul modus operandi dell'arbitraggio sul openvar diretto da Rocky chissà che magari prima o poi arrivi anche un servizio su questo intanto accontentiamoci delle immagini che ci porta fanpage e delle domande che ci fa alla fine di questo servizio incredibile mettete un bel like per supportare questo video le iscrizioni sono facoltative per questo contenuto l'importante è condividere questo video perché difficilmente accadrà nuovamente che fanpage si occupi di determinate cose anche perché sappiamo c'è una squadra di Milano che viene spesso favorita dalle casualità ma ce n'è una di Milano che è stata sfavorita da un episodio che è successo guarda caso 24 ore dopo e il giudizio degli arbitri del VAR è stato totalmente opposto in Milan Lecce Genoa Juve sono avvenuti due episodi molto simili entrate pericolose nei confronti di Nico Gonzales e su Bada ma valutate diversamente dagli arbitri perché ci chiede fanpage è questo lo andremo a vedere piano piano cosa non convince e alimenta confusione chiede il nostro giornalista Maurizio De Santis ve lo ricordate De Santis io non ti sputo se non ti profumo io non ti piscio che ti lavo io non ti cago che ti inciprio ve lo ricordate sì ve lo ricordate e allora il grande De Santis che ci racconta proprio è successo qualcosa di strano ce lo fa anche vedere questo è l'intervento del Milan e l'altro è l'intervento del Genoa uno contro a favore a sfavore del Milan che viene sanzionato con un cartellino rosso il secondo invece ai danni della Juventus che guarda caso soltanto un cartellino giallo è anche fanpage si chiede anche fanpage comincia a farsi delle domande ragazzi è incredibile è incredibile fanpage comincia a farsi delle domande e di mezzo c'è la Juventus tra virgolette come vittima di un eventuale episodio diciamo a sfavore perché se da una parte è rosso dall'altra teoricamente dovrebbe essere anche rosso ricordando anche quello che è successo per quel che riguarda Milik contro l'Empoli ma attenzione perché sono saltati fuori i nostri amici di città laggiù e hanno gridato al campionato falsato naturalmente la Juventus momentaneamente si trova prima in classifica in attesa della partita del Napoli che ospiterà il Monza se non sbaglio e sarà una partita che vedrà la vincente di questa partita cioè se il Napoli vince passa la Juventus al momento della Juventus prima l'Inter è indietro addirittura anche il Milan e da lì città laggiù al grido di campionato falsato ripetono quello che Ziliani racconta quindi la Juve prima è un campionato falsato non perché l'Inter non potrebbe partecipare al campionato ma perché la Juventus è prima e quindi un modo come un altro per trovare una scusa per falsare questo campionato c'è le notizie che girano sono quelle ma andiamo a leggere perché la prima cosa che viene in mente nel vedere durante Genoa Juventus l'entrata con il piede a martello di Frendrup su Nico González è qual è il criterio di valutazione degli arbitri effettivamente a guardare questa immagine la domanda se la fa anche fanpage venerdì sera Bartesaghi del Milan è stato espulso con il rosso diretto per una giocata pericolosa su banda del Lecce al Ferraris l'entrata del calciatore dei Liguri è stata ritenuta solo da munizione qualcosa invece qua non convince quindi da una parte giocatore del Milan espulso dall'altra parte giocatore del Genoa contro la Juventus guarda caso ha munito almeno in questo caso è stato munito perché abbiamo visto contro il Napoli un intervento e vi abbiamo portato anche le immagini nemmeno sanzionato con un castellino giallo quindi almeno dobbiamo stare tranquilli Frendrup solo ha munito per l'entrata su Nico González nel caso del giocatore del Grifone il direttore di gara Colombo che ha scoperto anche che si può non espellere ha ritenuto che Frendrup abbia giocato il pallone prima e poi sullo slancio abbia colpito lo stinco all'altezza della caviglia in maniera involontaria l'attaccante bianconero che tra l'altro si è fatto anche male si spiega così la sanzione disciplinare minima cartellino giallo con il VAR che non parla che però hanno detto che se il cartellino fosse stato rosso il VAR non sarebbe potuto intervenire quindi se dava il rosso per il VAR andava bene perché era rosso ha dato il giallo e il VAR non interviene perché ha dato il giallo no questa me la dovete spiegare voi a me perché non l'ho capito comunque Bartesaghi del Milan punito con il rosso nella gara con il Lecce la situazione cambia del tutto e alimenta un po' di confusione certo perché si è messo in controluce per il trattamento riservato alla calciatore del Milan da parte dell'arbitro Zuffredi cosa era successo? e andiamo a vedere nel tentativo riuscito di rinviare il primo sulla palla è entrato in maniera scomposta finendo con il piede a martello anche se tenuto bass è questo qua comunque almeno un cartellino giallo sull'avversario che viene colpito e si fa male l'ufficiale di gara non ha avuto alcun dubbio ne c'è stato l'intervento del VAR cartellino rosso diretto per il giocatore del Milan che ha giocato solo 5 minuti e allora si chiede fanpage non Peter Pan attenzione si chiede fanpage dopo questo cartellino rosso qual è il ratio che c'è dietro queste due decisioni così diverse rispetto a due episodi molto molto simili si chiedono imprudenza perché il primo è stato valutato come semplice imprudenza ci dicono qua il cacciatore agisce con una non curanza del pericolo o delle conseguenze per l'avversario è un altro inteso come vigoria sproporzionata il cacciatore eccede nell'uso della forza necessaria a mettere in pericolo l'incolumità dell'avversario perché una in una maniera e una nell'altra se lo chiede fanpage Rocky naturalmente a open bar di questo non ne parlerà così come non ha parlato della testata in bocca a gatti così come non ha parlato dell'intervento nella partita contro il Napoli così come non parla mai degli episodi quando sono macroscopici e vanno a sfavorire la Juventus ricordiamoci che per quel che riguarda il gol annullato alla Juventus contro la Salernitana si disse anche gravina che doveva salvare il brand disse per quel che ne dice scarafaggiggetto lo sterco raro è stato un errore grave errore ma non ha sbagliato nessuno quindi abbassiamo i toni non è successo niente un gol che cambia il risultato a partita finita perché da 2 a 2 si andava a 3 a 2 non cambia niente sono due punti persi per strada ricordiamoci che Ronaldo Iuliano decise il campionato del 97-98 ve l'ho scritto ve l'ho detto nel video precedente detto questo fatemi sapere qua sotto voi che cosa ne pensate in attesa della partita del Napoli la Juventus rimane ancora prima e succedono nonostante ciò la Juventus è prima e sono successe e accadranno ancora delle cose strane e anche Fanpage comincia ad aprire gli occhi con il nostro giornalista De Santis noi ci vediamo al prossimo contenuto buona domenica pomeriggio a tutti voi